Al momento i modelli sono una ventina ma la scelta potrebbe arricchirsi. In questi tempi di crisi un'azienda di Barcellona ha deciso di usare un po' la fantasia e di aggiungere un tocco d'artista nelle bare di sua produzione. Dalla prossima settimana offrirà in catalogo non solo quelle tradizionali ma anche modelli personalizzati con soggetti e colori diversi.